Non tutti mi conoscerete, io sono Ginevra Fiore Perlini e sono una ginnasta della nazionale italiana di ginnastica ritmica e due anni fa ho avuto un infortunio mentre mi allenavo con le farfalle a Desio e in questi anni ho insegnato alla mia vecchia società di quando ero piccolissima, alla Virtus Ferentano. Questo anno ho riprovato a gareggiare nel campionato di Serie A con l'Etrura Prato, la mia amatissima società e dopo, quando è finita, verso aprile-marzo, visto che sono una ragazza molto determinata, ho voluto trovare un'altra sfida da pormi e mi sono ricordata di quando ero piccolina che volevo fare Miss Italia. Questa avventura non è cominciata nei miglior dei modi perché comunque, essendo le prime volte, non riuscivo a arrivare però grazie al carattere che mi ha formato la ginnastica ritmica, o meglio la mia insegnante Olga Tiscina, la mia società di Turba Prato e tutte le persone che mi sono state accanto, sono riuscita comunque a perfezionarmi e andare avanti e sono riuscita a conquistare il titolo regionale di Miss Miluna Toscana 2019 che mi ha permesso di partecipare alle prefinali nazionali a Mestre a Venezia e a tratti entrare nella passerella in Miss Italia e entrare in pedana può essere molto simile o meglio, la stessa tensione che hai quando entri in pedana e la stessa tensione che hai quando entri in passerella è fortissima, è una botta di vita e devi dare il meglio di te in un minuto e mezzo quindi devi essere concentrata, devi essere molto determinata e niente l'emozione è che anche quella deve essere assolutamente provata e niente, se riuscissi a passare sulla Rai il 6 settembre alla finalissima di Miss Italia avrò bisogno di tutto il vostro aiuto, quindi mi raccomando mi fido di voi un bacione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti